Oh mamma mia, è tardissimo, sto aspettando la metro e qua ci potrebbero essere dei malintenzionati, spero che non arrivi nessuno Chi ha detto malintenzionati? Oh no, signorina, cosa sta facendo? Io me ne vado Metro, mi prenda la prego, c'è una pazza lì Non mi scappi Scusi autista Scusi autista Aiuto E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef, che sei GKMGTA5 E stiamo qui con un nuovissimo episodio del si può fare, con tante nuove belle cose da provare Esattamente, la prima cosa da provare, si può fermare la metro? Sì Io non me la sarei mai e poi mai aspettato, ma basta stare addirittura davanti, così, in piedi fermi E l'autista automaticamente si ferma, non l'avrei mai e poi mai detto, ma funziona per davvero Allora, pensavo un attimino che si potesse buttare giù l'autista e prendere il controllo No, non esagerare, dai E invece no, troppo bello per essere vero Vuoi giusto fermarlo, volevo dire che il si può fare più figo di oggi sarà provare a mettere il carro armato sopra la metro Ok O tram, perché ancora io ho qualche dubbio se è una metro o un tram, sinceramente Da noi non esistono queste cose, quindi non sappiamo come si chiama Troppa tecnologia E quindi comunque quello lo faremo, però prima proviamo altre due o tre cosette carine e carine Allora, autista, si sta divertendo? Non gliene frega nulla del ritardo? Ha detto che tanto non c'è nessuno dentro Ha ragione, la lasciamo passare, a rivederla Dai, lasciamolo in pace, lasciamolo in pace Primo si può fare ufficiale di oggi che proviamo Allora, ci hanno proposto di provare a fare una rapina in un market bloccando l'entrata con un camion E vediamo se la polizia in qualche modo riesce ad entrare dentro il market Ok Carino, eh? Ok Vero? Non so se funzionerà, però si può provare Si può provare Allora, entra dentro a fare la rapina, Fede Io, come sempre io Io mi guardo allo spettacolo dei poliziotti che rimangono incastrati secondo me Allora, tu mi raccomando Vado di pistola classica Ok Oggi mi sento molto classica Mi raccomando, allora, blocca tutto in tempo record, ok? Vai, ho già bloccato Ok Ok Salve, scusi Dimmi che ti ha dato le stelline Eh, sì, due stelline Ok, perfetto Però mi tocca spararlo, mi sa Ah, vai, fai quello che vuoi, fai quello che vuoi Lo uccido perché poi ho paura che mi spari lui, capito? Allora, io non so bene perché, ma mi sono preso tre stelle di polizia Tu ne hai due, eh? Io ne ho tre adesso perché l'ho ucciso Ok, allora, devo chiamare velocissimo Lester e allontanarmi dal camion in modo tale che non vengo associato Probabilmente comunque incastrare l'ingresso viene considerato come darti una mano Pavoreggiamento Esatto, esatto Ok, io ho chiamato l'estero e ho tolto la polizia Vediamo adesso cosa succede con Frenichi Ok, no, io ce l'ho ancora e nel frattempo ho anche rapinato la cassa Ok, ah, beh, visto che c'eri, no? Mi faccio un po' di soldi, insomma, con il tipo di fare Mi sembra giusto Allora, è arrivata la polizia Che buone È arrivata la polizia Ah, sì, scusa, dobbiamo pensare alla polizia Sì Allora, sono armati, stanno iniziando a correre intorno Ok Non sanno bene che fare Non sanno bene che fare Io ho un'ansia incredibile perché adesso me li vedo sfondare i muri Guarda, lo so già La polizia in questo momento non sa che fare Tu ce le hai ancora alle stelle? Tre stelle E neanche lampeggiano Quindi non le sto perdendo Ok, ok, quello era quello che mi interessava Io vedo elicotteri Guarda, riesci a vederlo il mio schermo, un attimo Sei circa ondata da almeno sei poliziotti E non sanno che fare per entrare Ma questa è la cosa più bella del mondo Ma chi l'ha consigliata? Che fantastica Cioè, bellissima Guarda, guarda questa parte Guarda questa parte Ce ne sono altri tre Perché non riesco a vedere nulla C'è cosa di capire che sta succedendo con le ombre Non capisco niente Ci sono altri tre poliziotti Stanno cercando di fare il giro Ma non c'è un altro ingresso Sì, ma non ci sono altre entrate Certo, certo Non hanno modo, non hanno modo Credo che abbiamo trovato un modo di fregare la polizia Credo che sia ufficialmente un nuovo bug per fregare la polizia Finalmente Two players, one console, uno, polizia zero Per la prima volta siamo riusciti a fregare la polizia Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Come minimo ci sono otto poliziotti immobili ad aspettarti Come minimo Ok Perché forse ce ne sono altri Più, almeno un elicottero che vedo stare qua sopra di te Sì, li vedo anch'io passare gli elicotteri Che continuo a passare Io continuo ad avere le stelline Ufficialmente funziona Provo a togliere il camion e vediamo che succede Sono curioso di vedere se mi dà le stelle di polizia Solo salendoci sopra No Se mi tolgo L'ha investito Sì, si è messo un po' in mezzo Scusi, poliziotto, ma è colpa sua E adesso ovviamente sparano me Sparano me Sono entrati a spararti? Sì, sì, vabbè Dagli do una mano così finiamo Questo si può fare Allora, cosa molto importante però Questo metodo Non serve per togliere le stelline Perché a me non sono lampezzate Esatto, è vero, è vero Cosa molto importante Io volevo dire Che credo che la notte si vedrà un pochettino meglio nei video Perché ho aumentato la luminosità Visto che c'ero dato che dovuto rininstallare il gioco Quindi teoricamente adesso vedrete un po' di luce in più Anche con le note fonda Io da qui non vedo niente lo stesso Tipo, ora sono le 4 e mezzo E sembra l'alba È una figata Proviamo il carro armato sopra la metro Allora, e fare prima di tutto sali sul carro armato Arriva, aspetta, aspetta E va troppo dritta Porca miseria Va bene, non frena, sta moto fa schifo Lo trovate in giro, non mi rompe Sei tu che non freni Allora Vai, 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 vai Ok, cosa dobbiamo fare di preciso? Cioè, mi metti sopra la metro e poi? E poi ti diverti A fare cosa? A uccidere tutto Ma io non lo so se mi fa rimanere lì sopra Secondo me sì Secondo me no Secondo me sì Bene? Dobbiamo aspettare la metro adesso Sì, sì Come dei bravi cittadini Stiamo anche noi aspettando Sì Però Non siamo né bravi né cittadini Sì, esatto No, cittadini sì Bravi avrei qualche dubbio Dove sei? Eccomi, eccomi, eccomi Qua, 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 qua Sali sul carro armato Oh, che faticaccia Questi si può fare Difficilissimo mettere il carro armato di sopra Che fatica Non ce la farò mai Calmi, mi devo raddrizzare Devo andare sopra Esatto, esatto La metro E mollarti Oh No Wow 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 Dimmi che riesci a girarti Non credo Bravissima Sì Bravissima Adesso cerca di allontanarti un po' Sì Me ne va, aspetta Bravissima Hai salvato Si può fare Allora, ho capito come fare La differenza è tua Allora Ti ho mancato No Non esplodere Non esplodere Che persona inutile C'è una persona inutile Scusa Fede Scusami Però era difficile Davvero Se avessimo il cargo bob Lo potresti chiamare Non hai soldi per il cargo bob Quindi zitto 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 Comunque rimane fermo Per un sacco di tempo Ah sì Ho voglia Allora Dobbiamo provare altre cose Con la metro Quindi vieni qua Salve Le devo far vedere La mia mossa speciale Le piace? Le piace? Fede Sta arrivando Fede Cosa hai fatto? Ecco qua Quello che andava fatto Salve Vuole vedere la mia mossa speciale Dimmi che non è stella di pulizia No ovviamente Dai le stai facendo scappare Ma perché quando mi guardano scappano Io non capisco Beh Scusi Altamente minacciosa Ma come? A me non stupisce Non mi vuole nessuno Sali sempre alla metro Dai forza Non mi vuole nessuno Da brava Da brava Da brava Allora 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 Qua dobbiamo testare Delle cose davvero interessanti Prima di tutto Non provare a picchiarmi No mi volevo sedere Perché non mi posso sedere? Allora Se noi abbiamo delle stelle di polizia Ok Ok E stiamo sulla metro Cosa fa la polizia? Insegue la metro? Ah beh Sì interessante Da scoprire Capito? Sì Quindi Se adesso Il nostro amico Jonathan riparte Ok Amico No non riparte con noi Lui è abituato Non avere clienti Quindi No ha detto che per oggi Ha deciso di ripartire Inizia a sparare in giro E fatti delle stelle di polizia Ok Soprattutto Si possono avere stelle di polizia? Sì Ok Queste ce le abbiamo Ok Adesso mi voglio godere La scena della polizia che arriva E noi stiamo sulla metro E stiamo finendo sottoterra però Vabbè giusto Perché la metro passa anche sottoterra È normale È normale Sì 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 Però voglio stare in mezzo alla città Fede come sta andando? Così così Ho una stella E non mi sembra che i poliziotti siano interessati a me Mi sembra che Cioè mi cerchino ma non mi trovino insomma Com'è possibile? Non lo so Forse non capiscono che sono dentro la metro Aspetta Sta arrivando una macchina di polizia Una macchina di polizia sta arrivando adesso Ok vediamo come reagisce al fatto che stai sulla metro È andata dritta Davvero? Sì E non so dove sta andando Tu hai ancora la stella di polizia? Eh sì due addirittura Un altro bug della polizia Oggi è full bug polizia Dovevamo intitlarlo Come bugare la polizia parte 1 Esatto Sappiamo adesso come disturbare la polizia Senza poi essere disturbati noi dalla polizia Mi sembra una buona cosa Dove sto finendo? Stiamo per andare di sotto dalla parte opposta Siamo adesso a carriarmato per intenderci Ok La polizia c'è Oh io non ho parole Allora stiamo per ripartire Stava arrivando un poliziotto ma l'ho ammazzato Perché comunque voglio vedere se ci seguono quando siamo in movimento Ok Siamo in movimento con tre stelline di polizia Ok O ci calcolano o davvero la metro È un ottimo modo per fregare la polizia L'ennesimo in caso in questo giorno Stiamo finendo a sottoterra Siamo di nuovo in città Abbiamo dovuto aspettare tutto un giro Non avete idea di quanto dura Ma adesso abbiamo tre stelle di polizia E siamo proprio in mezzo alla città Quindi stiamo a vedere cosa succede Se riusciamo di nuovo ad arrivare ai fini sotterranei Senza nessun problema Decisamente abbiamo trovato un nuovo problema per la polizia Ah sì voglia 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 Allora 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 Già adesso un pochettino li sto seminando Ma continuo a sparare Perché non è mio interesse seminarli Ma a vedere se sono tipo in grado di seguirci O cose del genere A me stanno provando proprio a sparare attraverso la tram Davvero? Sì 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 A me lo hanno proprio ignorato Litigando malamente E come sta andando? Riescono a prenderti oppure no? Beh al momento li ho massacrati E non sanno bene cosa fare Nel senso Eh vedi che sono sempre un po' confusi Sì 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 Non reagiscono come se tu fossi in una macchina Capito? Guardate sta arrivando una macchina Guardate la minimappa Guardate 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 È andata dritta Non si è neanche accorta che noi ci siamo Sì esatto Se non continuo a fare chiasso E ad attirarli Neanche se ne accorgono insomma Quindi la metro funziona per seminare la polizia Ok Non l'avrei mai detto Molto divertente a sapersi Così come il cambio davanti al negozio Molto divertente Sì e oggi ne ho detto È a tema fregare polizia Allora Fregare la polizia su GTA Cambio di rotta Proviamo una cosa totalmente diversa Ce l'avevano chiesto diverse volte i consolini Ovvero si può atterrare con un elicottero sopra il carro armato? Secondo me sì Perché no alla fine? Perché no? Sarebbe figo Perché nel caso poi col carro armato va in giro con l'elicottero che sta sopra Vai 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 proviamo Proviamo Allora E più che altro Mi metto in un posto migliore? Steph può riuscire ad atterrare su un carro armato Ok lo facciamo un po' più personale Esatto Allora vai piano piano Io non mi muovo Ok Quello elicottero forse è un po' troppo grande Io non so perché hai preso Non hai preso C'era questo Fere C'era questo Devi prendere di quelli piccoli Però non di quelli giganti Con le migratie L'avrei preferito Però ce l'era solo questo Ok Steph Quasi ce la fa lo stesso Attenzione Che fatta Io non vedo niente Prova a muoverti un po' Vado? Piano piano No Ok aspetta Non muovere la visuale Ma è troppo grande Proviamo con questo Allora ne mentre chiedo Comunque Passaggio in elicottero Però aspetta Vengo da te No No c'è un sacco di spazio lì Mi piace di più Va bene Qua invece siamo in mezzo all'astro delle auto Ci disturbano Va bene Arriva Bello di questo colore Bellissimo Guarda Guarda Ok Ma porca miseria Però che sfiga No secondo me non fa Non rimane Aspetta Hai troppo poca fiducia in Steph Tu Sì esatto È proprio così Guarda È arrivato anche quello di MediWater Che si sta mettendo in mezzo alle scatole Adesso la faccio esplodere Ok No vedi che Si Si sta ancora muovendo Vero? Piano 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 Mi spara la polizia No sono fermo Prova a muoverti piano 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 Continua così A questa velocità Ok E quindi che senso ha? No dai Non fa Non fa Non fa Non fa Uuuu Cosa hai visto? Aspetta Aspetta Chiamo un attimo la polizia Perché non voglio essere disturbata Ma hai visto? Mi sa che abbiamo visto la stessa cosa Aspetta Aspetta Una cosa gialla? Sì Eh Io ho sempre risposto nei commenti ai consolini Che non si poteva prendere il sottomarino E dimmi che quello è un sottomarino Fere È un sottomarino Arrivo Arrivo Me ne sto andando senza di te No aspetta Allora mi lancio in acqua Mi lancio in acqua Uuuu Sto andando sotto acqua No che bello Aspetta No vabbè Ma non sapevamo che ci Io pensavo fosse solo nel single player Fosse solo nel single player Ti fa salire? No È un posto? Dai no Non mi potete rovinare tutto Premi F In questo no No sto affogando Aspetta devo andare su Aspetta torno a galla Dai fammi entrare Perché mi devi fare questo? Vado Fere Devo provarlo Ma ne vado Per riprendere i consolini Va anche veloce Guarda Beh certo Che poi questa è una mitraglietta? No No penso che sia quello per vedere Fuori dall'acqua Ah Quindi premo Un tasto e posso vedere No Ok Ti stai gasando un po' troppo Un po' troppo Guarda guarda che bello Ah bello si Vedi Si possono suggerire anche di si può fare Per il sottomarino Che noi sinceramente non pensavamo Si potesse prendere nell'online E invece si può Si può acchiappare il sottomarino Col cargo bob Eh ma tu sei fissato Con questo cargo bob Eh beh è bello il cargo bob Al suo fascino Pensa se acchiappi un sottomarino E vengilo così Ma ci puoi contare Te l'immagini? Comunque dai Direi che ci possiamo fermare così Per questo episodio Speriamo che vi sia piaciuto Anche se ne abbiamo failato Davvero tantini Quando c'è di mezzo il cargo bob I fail sono tanti Però abbiamo scoperto il sottomarino Quindi abbiamo compensato Non vi potete lamentare Ammettetelo È un pareggio questo Quindi ci fermiamo così Nei commenti continuate a proporci Cosa da fare Soprattutto dedicate al sottomarino Votate il sondaggio Mettete davanti i likes E ci fermiamo così Bene che se non riesce così Se ci sono lasciateci i miei like E questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri video Ciao E la prossima Ciao